Per me è un giorno importante domani, è il mio compleanno, faccio 30 anni e a 30 anni bisognerebbe iniziare a professare la propria religione, giusto? Secondo quello che c'è scritto bisognerebbe fare così, a 30 anni è il giorno giusto e bisogna iniziare, no? E quindi io vado nel posto dove poi sono nato, a livello come ragazzino, quando ero bambino le prime cose che ho letto era sul nazismo, sullo sterminio e su queste cose qua, quindi per me è importante. Grazie! 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 Che merda! Hai fatto delle maialate! Allora la prossima volta non li spendere mi nevo, per un maiale! Capito? Non lo fare! Io li spendo! Io li spendo anche tre volte! Non lo fare! Perché i maiali non si salvano! Sono dei puzzolenti merdosi! Io non sono qua per salvarti! Che si rovesciano nella molenza! Io non sono qua per salvarti! Sei qui a salvare te stesso! No! Era per che cosa sei qui? Per ricominciare a parlare! Siamo qua! Anche così!